Bene, diamo inizio a questa conferenza stampa, vedo molto partecipata ma è naturale. Quattro assessori su sette sono debuttanti, alcuni assoluti per non aver mai ricoperto cariche politiche e chi invece no, con passate esperienze amministrative o come consiglieri comunali. Comunque sia, una delle giunte più giovani in assoluto come età anagrafica che il comune di Fano abbia mai avuto. Ma analizzando nel dettaglio le deleghe viene subito all'occhio il fatto che al PD sono andate le deleghe diciamo pesanti, quelle che incidono fortemente sull'assetto complessivo della comunità, bilancio, urbanistica e servizi sociali. Mentre alle liste che hanno supportato il sindaco sono andate cariche di grande visibilità, un po' più mediatiche e quelle dove si è maggiormente esposti, possiamo dire turismo, eventi, cultura, sport e lavori pubblici. Ed è proprio in queste che si concentrano maggiormente i nuovi arrivati. Dimitri Tinti, uno dei tre assessori andati al PD, eredita dalla Marina Barniesi, sempre del suo stesso partito, che avrà e appunto la delega al welfare di comunità, politiche sociali, famiglia e rapporti con l'ambito sociale 6. Credo che ci sia molto da fare, da consolidare soprattutto anche un gran bel lavoro fatto negli ultimi cinque anni e soprattutto far leva molto sulla sussidiarietà, sul coinvolgimento delle associazioni, di tutto il privato, per mettere insieme pubblico e privato e dare risposte sempre più qualificate, efficienti. Sara Cucchianini, espressione anch'essa del PD, eredita dalla collega di partito Carla Cecchetelli, la delega al bilancio, tributi e patrimonio, servizi cimiteriali, demografici e interni, pari opportunità, polizia locale e politiche giovanili. Deleghe importanti, deleghe pesanti, delle quali comunque sono grata, perché sono deleghe tecniche ma anche politiche, quindi sono deleghe che mi costringeranno a passare notte e giorno sul lavoro per il comune e per la comunità fanese con scelte che dovranno essere comunque fatte con collegialità. A Fabiola Tonelli, della lista Noi Giovani, vanno qualità urbana, sostenibilità ed innovazione tecnologica, lavori pubblici, mobilità e smart city. Sono molto emozionata, devo dire la verità, però sono anche molto volenterosa e ho tanta grinta nel voler veramente mettere qualcosa di importante all'interno sia della giunta, creare una squadra, fare gruppo insieme agli altri assessori e anche portare le mie competenze e i progetti che ho portato avanti alla fine durante questi cinque anni. Ed infine il debuttante assoluto al centro, nei mesi passati, di infinite rincorse sulla stampa e oggetto anche del contendere della Lega al Turismo. Etienne Lucarelli, ex presidente della Proloco, in rappresentanza della lista insieme a cui sono andati sviluppo e turismo, eventi e attività economiche e produttive. Ci metteranno in rete tutte le realtà della città, operatori, associazioni di categoria, associazioni di altro tipo, perché la città ha bisogno veramente di uno sprint in ambito turistico, in ambito commerciale e quindi ovviamente io ci metterò tutte quelle che sono le mie capacità, le mie competenze, l'esperienza assunta in questi anni per cercare di dare tutto quello che si può fare per migliorare la città. Ora dopo l'investitura dei nuovi assessori, l'attenzione è tutta concentrata sul sabato prossimo, allorquando nella prima seduta del Consiglio Comunale si incastrerà l'ultimo dei tasselli di questo complicato puzzle, ovvero il presidente del Consiglio Comunale, prestigiosa carica anch'essa rivendicata dal PD e che dovrebbe fuoriuscire dalla famosa rosa dei cinque.